Musica Missione compiuta, obiettivo centrato per l'undicesima volta. Ottima prova come al solito per i ragazzi dell'ITC, annuzzi di Andri alla finale regionale di corsa campestra dei giochi sportivi studenteschi andata in scena di recente allo corotondo. Titolo pugliese 2022-2023 in cassaforte, grazie al terzo posto di Cosimo Massotina, il quarto di Domenico Maraciolo, il nono di Giuseppe Leonetti e il decimo di Andrialo Russo. La preparazione è andata nel migliore dei modi considerando che potevo contare su sei ragazzi veramente forti, motivati e seri e anche sulla collaborazione del nostro dirigente professor Monopoli che ha consentito ai ragazzi anche di fare degli allenamenti scolettivi durante le mattinate con un progetto ad hoc. E poi questi sono ragazzi veramente molto 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 talentuosi e quindi hanno fatto veramente qualcosa addirittura di inaspettato, ecco qui sta la concorrenza. Il trionfo a livello regionale ha permesso al ITC, annuzzi di centrale per l'undicesima volta il pass per la finale nazionale. Il miglior risultato di sempre è quello del 2004 a Reggio Calabria quando arrivò un prestigioso secondo posto, miglior piazzamento di sempre di un istituto superiore pugliese. Sono molto soddisfatto, è stata una grande grande soddisfazione perché nonostante una concorrenza veramente molto agguerrita da parte di Acquagliva delle Fonti di Lecce siamo riusciti a vincere ancora una volta la finale regionale e quindi ci siamo qualificati per l'undicesima volta per la finale nazionale di Corsa Campostra che si terrà a Venezia a fine marzo.